Oh, si sta su, eh? Dario! Sì, stai bene! Luca! Francesco! Oh, 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 patello! Oh, oh! Mi piace! Sì! 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 Il porco cade, vai! Guarda che passa! no no è bucita è bucita è bucita ci è la fiazone e la fiazone non è la fiazone ma è la fiazone vai si trova ma è la fiazone a la fiazone ecco va a ok ok dai carta canta carta canta ale deve peccare il 2012 M 문 il è il il è Grazie a tutti. 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 In the tree by the brook Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.